Il fatto risale al mese di luglio dello scorso anno, quando fu commesso un furto in un'abitazione del comune di Baucina, in danno di un'abitazione occupata da anziani, che addirittura furono svegliati in piena notte dall'azione dei malfattori, intenti a forzare le grate, poste a protezione di porte e finestre. È in relazione al crimine i carabinieri delle stazioni di Baucina e Ciminna, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa al giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei Termini Merese, su richiesta dello locale Procura della Repubblica, hanno catturato un 28enne abitante di Bagheria, soggetto già noto alle forze dell'ordine. L'attività di contrasto messa in atto dai militari dell'arma aveva dato già i suoi frutti quella stessa notte, quando nel corso del grave delitto, ovvero erano stati asportati gioielli per un valore di 2.000 euro, i carabinieri avevano arrestato in flagranza un trentenne abitante in Bagheria, mentre il complice era riuscito a dileguarsi. In seguito, le investigazioni per individuare il fuggitivo hanno permesso di acquisire elementi gravemente indiziari a carico dell'odierno indagato. Prezioso in questo senso è stata la collaborazione dei cittadini con l'arma locale, segnalando tempestivamente, con efficaci descrizioni dell'abbigliamento, vetture e fattezze fisiche, i volti sospetti e nuovi intervisti in paese. Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato associato presso la casa circondariale Lorusso Pagliarelli di Palermo.